Le manifestazioni sulle valvole internazionale, anzi addirittura mondiale, attrarrà a Bergamo circa 10.000 visitatori, un bel numero di operatori, di visitatori e Bergamo diventa bella da vivere, bella da visitare e quindi da questo punto di vista sarà un contenitore magnifico per il turismo d'affari che si unisce al turismo tradizionale, turismo innovativo con aziende innovative e da questa collaborazione molto forte con Confindustria abbiamo messo insieme le produzioni con le bellezze del nostro territorio.